cari amici cari amiche ben arrivati alla seconda parte sul video di anna magnani grazie per avermi seguito in tanti e grazie per il like che mi avete lasciato che non sono ancora tantissimi ma cresceremo quindi se volete potete attivare la campanella lasciarmi like lasciarvi messaggi veramente sono molto contento seconda parte del video su anna magnani grande artista l'abbiamo detto grande professionista nel mondo del cinema e del teatro abbiamo parlato della sua storia d'amore di soffi con 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 roberto rossellini scusatemi e di suo figlio avuto con massimo serato abbiamo parlato di alcune sue interpretazioni ma anna magnani a un certo punto si trova a volare ad hollywood vola ad hollywood gira la rosa tatuata dramma scritto per lei dall'amico tennessee williams e si trova a vincere l'oscar vinto l'oscar le propongono tutta una serie di altri ruoli che però a lei non soddisfano perché perché incarnando lei uno stereotipo particolare di donna le vengono affibbiati un sacco di ruoli tutti uguali quindi lei decide di chiudere con l'america tornare in italia e proseguire la sua carriera abbiamo parlato vado sempre in ordine sparso quindi mi scuso con i pignoli ma vado un pochino in ordine sparso abbiamo parlato nel precedente video di del film con pia paolo pasolini che lei fece pia paolo pasolini non era amatissimo nell'italia di quegli anni 1962 il film con pia paolo pasolini arrivava per riequilibrare un grave in successo che era il film con mario municelli del 1960 in realtà non furono dei successi nell'uno nell'altro furono due grosse sconfitte professionali per anna da una parte anna collaborava con un regista visionario molto avanti nel tempo che non era apprezzato per le sue idee per il suo orientamento sessuale nell'italia degli anni sessanta e dall'altra invece due anni prima collabora con monicelli risate di gioia un film che dove lei recita in coppia con totò dove riportano anche a un certo punto del film un numero di avanspettacolo la canzone geppina geppi che da sola vale tutto il film il film risate di gioia film che la magnani fece fatica ad accettare perché perché tornare a lavorare con totò voleva dire per lei che aveva vinto l'oscar quindi che era uscita dal mercato italiano ed era diventata di respiro internazionale fare un passo indietro totò era un grandissimo attore un grandissimo comico però era rimasto nel mercato italiano era molto legato al mercato italiano lei era uscita lei aveva un respiro internazionale tornare a lavorare con totò voleva dire fare un passo indietro ad ogni modo accettò il film fu girato nell'estate del 1960 e mario moncelli dice che anna magnani era una grandissima artista questo lo vediamo tutti basta guardare anche solo degli spezzoni delle sue interpretazioni ma in quel periodo era legata esclusivamente alla sua immagine alla sua estetica recita con una parrucca bionda vediamo una magnani molto diversa dalle sue interpretazioni un film molto bello molto divertente che per allora però non fu un successo anna magnani va avanti con la sua carriera non diventa mai un'attrice ricca e lo dichiara lei stessa proprio perché dice tanti no dice tanti no se un ruolo non le piace lei dice no e ma è per questo che durante la sua carriera sta ferma anche diverso tempo senza lavorare l'ultima interpretazione di anna magnani è nel film roma di federico fellini dove lei fa un piccolo cammeo di pochi secondi si vede lei che entra dentro casa interpretando se stessa guardando in macchina da presa e augurando la buonanotte a federico fellini che in qualche modo con la sua voce le parla che so io una roma vista come lupa e vestale aristocratica e stracciona tetra buffonesca potrei continuare fino a domattina a federico dormiva posso farti una domanda no non me fido ciao buonanotte ecco sembra quasi un saluto al pubblico quel film e quell'apparizione furono proprio l'ultima apparizione di anna magnani sul grande schermo anna magnani collaborò anche con la televisione ricordiamo la famosa canzone ossurdato innamorato cantata in una serie tv non era una serie era un telefilm una produzione un film girato per la televisione dove c'è anche un giovanissimo allora gli inizi e semi sconosciuto massimo ragneri che parla molto bene di anna che ha nel suo palmaresti ricordi il ricordo di anna con questa grande professionalità questa grande forza e lui da giovane ragazzo non conosceva questo classico della canzone napoletano ossurdato innamorato e quindi anna gliela fa sentire poi dovrà cantarla anche davanti alla macchina da presa e gli dice ma tu ma che napoletano sei se non conosci questa canzone anna amava molto napoli amava molto la canzone napoletana amava molto anche cantare a Ciao